vi... ecco qua, aspettate un attimo che guardo solo una cosa ok, avete tutte le telecamere staccate però io comunque ve lo dico lo stesso la call la registriamo che così almeno possiamo renderla poi fruibile all'interno della piattaforma Moodle ve lo dico per questioni di privacy che nel momento per caso qualcuno di voi dovesse parlare e accendere la telecamera senza problemi facciamo un taglio di quello che è la vostra figura e la vostra immagine solo per questioni di privacy parliamo di questo ok? Bene magari qualcuno si collegherà ancora ma noi incominciamo e intanto vi do un buongiorno onestamente speravo di farlo in presenza questo saluto perché diciamo che quelle che erano state le direttive dell'Ateneo erano riguardanti le prime due settimane di lezione per poi auspicare una presenza contingentata in palestra ma ovviamente già dall'aria che tirava la settimana scorsa riguardante i discorsi delle palestre ho pensato che poi purtroppo ci saremmo ritrovati in questa modalità e quindi niente abbiamo optato per organizzare delle call per poterci vedere, parlare anche interagire un minimo seppur tramite schermo e non in presenza però almeno mi fa piacere vedervi anche se via etere e salutarvi di persona allora quindi vi do un formale benvenuto e un buon inizio di anno accademico seppur con tutte le difficoltà del caso ecco allora partiamo o qui intanto continua ad arrivare ancora qualcuno benissimo li inseriamo allora la prima cosa che di cui volevo insomma parlarvi oggi e di insomma intanto farci una presentazione un pochino più informale più internos tra tecnici perché di fatto io sono una persona che sono in veste di professore ma nella vita alleno come ho già detto nell'introduzione e che magari qualcuno di voi ha visto su Moodle però io formalmente di giorno nel senso giornalmente sono un tecnico sul campo faccio preparatore atletico e mi occupo appunto di di allenamento che quindi non sono esattamente un professore quello che che faccio con voi è cercare di trasferire alcune delle competenze che ovviamente sono sia nozionistiche ma anche esperienziali tramite quella che è la mia la mia esperienza ora ho fatto nel senso attualmente sono in carica col Custorino e tanti anni che faccio questo mestiere ho avuto opportunità di di stare all'estero di fare delle stagioni all'estero ho avuto opportunità di avere molte esperienze sotto il punto di vista proprio pratico oltre che formativo come io come studente ecco noi siamo in teoria una materia pratica che andremo a sviluppare da remoto fino a quando non ci permetteranno di 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 fare in maniera diversa ecco essendo un corso come vi dicevo totalmente di tipo sperimentale vorrei proprio costruirlo non solo per voi ma anche con voi ok quindi cercando di far sì che ci possano essere la massima interazione e quello che possa essere insomma soddisfare per quello che è possibile le vostre esigenze di tipo formativo cercando di rendere più fruibile e più funzionale al vostro percorso accademico questa questa nostra questo nostro corso di insegnamento all'interno del pacchetto sport di squadra detto questo come ho già presentato all'interno dell'introduzione sono coadiuvato da da Daniela Gobbo che sarà vostra cultrice della materia lei è stata mia atleta in serie A per tre stagioni persona di altissima statura per quanto riguarda l'esperienza sul campo per quanto riguarda gestione di società oltre a lei è atleta con grande esperienza a livello nazionale di di diversi anni e volevo presentarvela volevo anzi la lascio presentare in autonomia per dirvi che cosa può fare per voi che cosa mette a disposizione per voi e soprattutto che cosa fa all'interno del custorino e quali potrebbero essere le opportunità che si vengono a creare appunto per voi lascio la parola a Daniela grazie ciao a tutti ciao a tutti aspetta un attimo che ti punto che così no tanto si dovrebbero vedermi non importa anche se non mi vedono non si perdono nulla io a parte la mia carriera pallavolistica fondamentalmente ad oggi mi occupo della gestione del settore giovanile per il custorino relativamente alla pallavolo quindi gestisco tutta quella che è la parte di corsi amatoriali e universitari che quest'anno non potremmo fare causa covid gruppi di mini volley e gruppi agonistici quindi tutto quello che è il settore anche allenatori eccetera quello che stiamo cercando e che facciamo ormai da anni come custorino è quello di inserire ragazzi che provengono dal Suism quindi come voi per fare tirocini all'interno della nostra struttura tantissimi dei miei attuali allenatori che sono diventati molto bravi perché anche super appassionati arrivano da un percorso che potrebbe essere quello simile al vostro quindi si sono costruiti una stanno iniziando a costruire la loro carriera proprio con noi quindi insomma quella che è l'opportunità che mi piacerebbe dare a tutti voi e l'aiuto che voi potreste dare a me potrebbe essere quello di poi magari tramite il professore o direttamente tramite la mia mail tanto Omar ce l'hanno giusto da qualche parte mi sentite no? sì? sono ancora aperto la mail è in in calce alla lezione numero zero quella di introduzione sì considerate che la mia mail è di dominio pubblico come anche il mio numero di telefono quindi facile da recuperare ovunque e quindi insomma questo è quello di cui mi occupo inoltre gestisco anche tutta quella che è la parte di contabilità e di organizzazione degli eventi e qualsiasi altra cosa organizzativa legata alla serie A che da quest'anno non faccio più parte come giocatrice ma diciamo rivesto più una parte di back office direi per fortuna perché con questo covid tutto in modo non è stata una cattiva scelta e nulla l'unica cosa che vi consiglio che posso consigliarvi sulla base di quelle che sono le esperienze dei miei ragazzi è scegliete una strada percorretela non chiudetevi nei vostri nei vostri dogmi o nei vostri paradigmi cercate di rimanere sempre aperti e di sperimentare il più possibile ho ad esempio un ragazzo che l'anno scorso è entrato da noi a fare tirocini nella pallavolo e quest'anno fa un po' con la pallavolo e un po' fa preparatore per il rugby femminile quindi c'è assolutamente grandissime grandissima diversità tante possibilità di sperimentare di venire a provare da noi questo è quello che mi sento di consigliarvi basta basta ok ok quindi il punto è poi tra l'altro vabbè ci sono diverse sezioni a Custorino e siamo assolutamente Daniela e assolutamente come vedete aperta a potervi supportare in quelli che potrebbero essere i vostri i vostri campi di riferimento vorrei fare una piccola indagine anche con voi prima di iniziare vorrei capire di che cosa vi occupate mi iscrivete in chat oppure se volete parlare al microfono mi dite cosa fate se allenate se studiate basta se allenate che cosa allenate inteso come categoria giovanili attività mi date una panoramica mi fate un minimo di interazione tutti dormono allora allora palestra allenatore in palestra altri ah ok calciatore grande atletica leggera bene l'idea intanto che voi continuate allora calcio a giocatore quindi arrivate qualcun'altro giocatore di pallavolo centrale un'altra ginnastica artistica grande istruttore salapesi calcio palestra e football pallavolo mini volley melena acrobatica aerea wow pugilato e allena i bambini per il triathlon wow giudo atletica ginnastica artista un sacco di ginnasti calcio un sacco di calciatori tennis ciclismo wow bellissimo panorama variegato molto molto trasversale però ancora arrivano grande bambini mini basket pallanuoto e pratichi pallanuoto bellissimo ma è allenato va bene però hai giocato a tennis bene corsa su strada in montagna wow wow molto bene dovresti iniziare ad allenare andrea giochi a tennis guarda combinazione poco tempo fa c'era c'era mi hanno chiesto degli istruttori dei preparatori per il tennis eventualmente posso metterti in contatto beh comunque il panorama è estremamente variegato molto bello annetti mini basket anche anche un paio danni d'arbitro andrea complimenti molto molto bene nel senso che questo è l'idea nel senso che vedete già quello che questa è un assoluto la pole dance è l'unica che in tanti anni che come che ho una ragazza che può fare complimenti molto difficile molto dura quindi paragonabile veramente a esercizi di prestazione molto importanti comunque ragazzi vedete fin da subito che la nostra la nostra già il vostro corso è estremamente variegato molto molto trasversale e richiede esperienze di tipo trasversale quindi il mio obiettivo non è quello di insegnarvi a fare un bagger un palleggio che ovviamente lascia un po' il tempo che trovano nel senso che a livello in particolare per quello che è il vostro percorso di tipo accademico l'obiettivo è quello di fornirvi delle competenze di tipo trasversale più trasversali possibili per poter farvi crescere in maniera diciamo più come dire formata e pronta a quello che è il mercato dell'allenamento professionale a cui ovviamente voi dovete ambire a cui sicuramente voi dovete trovare come futuri tecnici futuri dottori in scienze motorie sportive una vostra diciamo nicchia di mercato quello che è il nostro diciamo il mio compito coadruvato da Daniela è quello appunto di darvi competenze quindi chi se ne frega che cosa se Daniela ha fatto 15 anni atleta di livello nazionale oggi ha un sacco di 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 competenze di skills costruite nel nel campo menageriale delle di una società grande come può essere il custorino con un sacco di contatti su altri tipi di di sezioni un sacco di altri sport chi se ne frega se io ho fatto il preparatore atletico per diciamo in Italia quasi al massimo al massimo livello italiano piuttosto che nella pallavolo piuttosto che ha avuto la fortuna di fare delle esperienze all'estero conta se io da oggi a quando avrò il piacere di collaborare con voi riesco a farvi passare delle nozioni farvi a far a farvi capire qualche cosa in più che potete spendere nei vostri rispettivi campi cioè l'obiettivo non è farvi fare un bugger ripeto l'obiettivo è farvi crescere come tecnici ok quindi per quanto riguarda il discorso della modalità di insegnamento cerchiamo di fare poi una via che possa essere concordata inteso come visto che siamo appunto in via del tutto sperimentale cerchiamo di capire se preferite una situazione di tipo frontale come stiamo facendo in questo frangente oppure una una più da remoto come abbiamo fatto nelle passate settimane con la possibilità di rivedervi la lezione fruire del materiale didattico ovviamente renderemo disponibile sia le le slide di quelle che sono le lezioni che stiamo tenendo anche di questa videocall cerchiamo di mettere su il video per poter insomma poterne fruire potersela rivedere potersela ristudiare eventualmente però vorrei che oppure anche una modalità di tipo misto quindi un po' e un po' quindi qualcosa più da remoto poi qualcosa di frontale da cui poter discutere ecco il mio sarebbe la mia proposta per voi sarebbe quella di condividere quella che è la scelta migliore per voi quella che vi piace di più quella che pensate possa essere più funzionale a quello che è il vostro percorso e di comunicarcela e quindi in maniera da poter soddisfarla dove possa essere possibile comunque abbiamo grandi libertà di manovra e possiamo fare un po' come ci pare quindi a questo punto facciamo un piano che sia condiviso e lo portiamo avanti nella maniera più nella maniera migliore che possa essere più di aiuto a voi e assolutamente possiamo dire abbastanza indifferente per quanto riguarda me per quanto riguarda noi nella produzione del contenuto da rendervi disponibile sempre per quanto riguarda la parte ok di della aspettate un po' che forse eccoci qua c'è qualcuno che ha delle domande un attimo soltanto perfetto grazie Matteo esattamente quello che ti avrei chiesto alla fine sei il capo corso Matteo? ok perfetto grazie esattamente quello che avete letto in chat alla fine voi vi fate un summit e mi fate poi una una diciamo tramite Matteo mi fate passare quella che è la vostra esigenza preferenziale passo a condividere il mio schermo così vedete il mio schermo condiviso? mi date un feedback per favore? si si vede professore grande perfetto grazie molte perfetto grazie allora perfetto eccoci qua allora vi do qualche info a riguardo del nuovo del nuovo anno accademico rispetto a quelli che sono stati i cambiamenti e le variazioni vedete che decade l'obbligo di presenza quindi non faremo appelli non faremo firme non faremo niente per cercare appunto di rendervi ovviamente il più facile possibile la fruizione dei contenuti ecco ci sarà vabbè guardiamo l'ultimo punto e poi ritorno un attimo a parlarvi per quanto riguarda il discorso dell'allevo allenatore FIPAV se ottengo 27 trentesimi sull'esame finale su tutti i giochi sportivi questa è una domanda che mi è stata fatta più volte negli ultimi giorni voglio ben chiarire che 27 deve essere il voto complessivo del vostro esame finale che considera del quiz sia delle domande del mio modulo del modulo della professoressa Caire e dei moduli adesso bisogna ancora capire soltanto negli ultimi diciamo piccoli dettagli parliamo ancora di giochi sportivi però tendenzialmente saranno sia domande del professor Camolese sia del professor Delicio che terranno in presenza congiunta le loro lezioni quindi di fatto voi dovete prendere 27 complessivamente su tutto il percorso la federazione mette a disposizione questa opportunità in funzione di chi ha appunto ha registrato l'esame di giochi sportivi con 27 o voto superiore ok e può essere comunque una cosa spendibile poi sul mercato una qualifica spendibile sul mercato come proprio tipo di di competenza certificata e acquisita veniamo a guardare soltanto questo punto qui abbiamo un punto assegnato per la parte pratica come potete vedere è facoltativo e le modalità sono ancora da definire inteso come faremo una volta cioè degli anni precedenti si facevano degli esoneri di tipo pratico l'esono di tipo pratico permetteva di fatto la verifica del lavoro sul campo ok che noi avremmo dovuto condurre anche quest'anno vediamo come si sviluppa la situazione quello che è il sentore attuale è ovviamente che si debba continuare da remoto quindi diventerà non è possibile fare una valutazione abbiamo deciso fondamentalmente noi dei corsi di la commissione dei giochi sportivi di mettere la la valutazione pratica facoltativa dove fondamentalmente vi chiederò di esibire alcune skills che potrebbero essere dei bagger piuttosto che dei palleggi piuttosto che altri tipi di fondamentale e magari fare una una piccola analisi su voi stessi su alcuni aspetti ora è ovvio che che la cosa non può essere obbligatoria però ci piace l'idea di premiare chi ha voglia di mettersi in gioco e provare alcune skills anche in via diretta su se stesso oltre al fatto che il possedere una skills cioè anche un'abilità su un fondamentale è comunque una ha una valenza anche di tipo didattico perché se io posso mostrare quelle che sono le i gesti che i miei giovani atleti devono devono rifare devono condurre sicuramente ho un modello educativo un modello didattico più ad ampio spettro quindi andrà premiato e verrà premiato da 0 a 1 punto che farà sommatore su quello che è l'esame finale ok per le specifiche ci rimandiamo un pochino più avanti perché ripeto notizia soltanto di ieri come ben sapete della della chiusura della possibilità di fare attività in palestra quindi vediamo un po' come come si evolveranno le situazioni di questa di questa emergenza sanitaria e eventualmente vi darò le disposizioni in merito ripeto assegna un punto e questi sono i motivi per cui la mettiamo in piedi in questo in questo modo ritorniamo di qua noi quello che ci proponiamo è quello di fare scienza dell'allenamento ok non ci basta soltanto avere delle competenze le competenze devono essere diciamo competenze esperienziali le competenze devono essere verificate e con verifica intendo verifica su pubblicazioni di tipo scientifico scientifico io non 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 pretendo di avere la assolutamente la verità in mano anzi tutto quello che vi proporrò sono soltanto pubblicazioni sono soltanto nozioni come dirvi scientificamente dimostrate e scientificamente accettate dalla comunità e sono disposto al confronto alla discussione inteso se voi possedete altre nozioni e sono verificate mi interessa saperle anzi il l'obiettivo sarebbe anche quello nel senso che se per caso riusciamo ad avere un confronto frontale giustificato da delle posizioni che possono essere anche divergenti però su nuove pubblicazioni che vengono emesse è viva la scienza è scetticismo organizzato ok non si crede a niente che non sia verificato quindi non credete a me non credete a niente che vi dico in maniera come opinione il mio impegno è quello di portarvi unicamente cose verificate questo ci tengo a dire perché se no vale tutto e già nel mercato vale tutto lo sappiamo bene chi allena già lo sa perfettamente noi dobbiamo essere in grado di distinguerci con delle nozioni delle capacità sia appunto in termini di appunto nozioni acquisite sia in grado poi di essere bravi esperienzialmente a metterli in pratica perché ve lo dico chiaro e tondo poi c'è anche il campo tu puoi essere bravissimo avere tutta la gestione teorica del mondo ma purtroppo poi l'allenamento è pratico facciamo un esempio se io domani mattina vado a comprare le materie prime che compra canovaciuolo o cracco al loro mercato di fiducia seguo la lezione scusatemi alla lettera la ricetta che loro hanno scritto della pasta al pomodoro vai tranquillo che la mia pasta al pomodoro non è come la loro perché poi c'è l'esperienza perché poi c'è la pratica perché poi bisogna mettere giù sul campo la messa a terra di queste nozioni fa tutta la differenza del mondo perché se no saremo soltanto dei ottimi nozionisti invece no dobbiamo far performare persone dobbiamo essere in grado di comunicare dobbiamo essere in grado di guidare dobbiamo essere in grado di scegliere quella che la strategia è migliore per quella che un adattamento prima un aggiustamento fisico poi un adattamento che dobbiamo portare in avanti per i nostri atleti per quanto riguarda la presentazione del corso non avrei altro da aggiungere avete domande ragazzi tutto chiaro fino qua scrivete in chat o mi date aprite il microfono se avete delle domande mi dite delle cose mi date un cenno di vita siete svegli siete morti silenzio in aula parlato da solo nessun dubbio Matteo se ti hanno scaricato e devi farti solo l'interfaccia c'è qualcun altro al mondo grazie ragazzi questa modalità non piace neanche a me ve lo dico non mi piace parlare da solo con lo schermo quindi per favore non mi lasciate da solo quindi partirei con un ripassino su quelle che sono state le lezioni che abbiamo messo fuori nelle passate nelle passate settimane allora vediamo un po' rapidamente qui passiamo sul concetto dello sport di rimbalzo e poi passiamo immediatamente a quella che è la fase di sensibilizzazione questi sono video che avete anche già a disposizione dovreste vederli adesso vediamo un po' se riesco a vedere ok al di fuori della capacità di dove va il pallone qui il primo obiettivo è quello di far ascoltare alla ragazzina il peso del pallone sull'avambraccio vi ricordo vi ricordo che il derma è il diciamo è il recettore di senso più ampio e più esteso del corpo umano quindi essere in grado di sensibilizzarlo e far sì che il peso del pallone diventi un fattore di tipo acquisito sul sul giovane atleta sulla giovane mini atleta nel nostro caso una ragazzina che fa ancora categorie under però vedete la capacità di portare il pallone di sensibilizzarlo di portarlo nello spazio è soltanto finalizzata a quella che è la gestione dell'attrezzo e della sensibilizzazione del sistema cioè è importante fin da subito far sì che si prenda coscienza di quanto pesa questo affare di come di qual è la effettiva difficoltà di colpirlo in maniera corretta per mandarlo dove vogliamo non è soltanto per quanto riguarda la pallavolo noi facciamo l'esempio sulla pallavolo perché il modulo si chiama così però traslatelo su quello che è la vostra la vostra situazione la vostra esperienza se siete abituati a ragionare sul calcio pensate delle persone che palleggiano pensate a portare a condurre il pallone pensate a tanti aspetti che possono essere più aderenti a quella che è la vostra di realtà per introdurre quello che è il principio della discriminazione cinestesica questa questa l'avevamo già condivisa con voi però è il principio di applicare forza per eseguire un compito è ovvio che se io applico la forza nelle mie dita per raccogliere per avere in mano un bicchiere di carta oppure la forza nelle dita per staccare un manubrio di diversi chili da una rastrelliera deve essere per forza differente alla stessa maniera se devo gestire un pallone sul mio avambraccio e colpirlo è diverso se colpisco un pallone da pallavolo è diverso se colpisco un pallone da basket è diverso se colpisco un palloncino pieno d'aria siamo d'accordo? questo è fondamentale da capire costruire una una sorta di piattaforma capace di recepire stimoli e poterli riorganizzare in funzione di quello che è appunto il peso del pallone la la traiettora che devo far descrivere al pallone stesso nel nostro caso ma è riportabile anche ci sono un sacco di ginnasti un sacco di 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 atleti all'interno del atleti nel senso praticanti atletica leggera nel 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 vostro gruppo di corso la stessa cosa avere la percezione del proprio corpo nello spazio è una skills che va assolutamente costruita sensibilizzare prima cosa si sensibilizza prima cosa si prepara la piattaforma a recepire degli stimoli ok quindi quando parliamo di sensibilizzazione è questo il compito è quello di iniziare ad avere ben in testa l'idea del 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 peso dell'attrezzo che devo portare calciatori un calciatore ragazzi apro il microfono un calciatore per favore a caso ditemi voi dico perché ho visto che c'era gente che giocava a pallone aspetta che vi trovo eh si sono il professore sempre io ascolta sicuramente hai già no per dire no sei perfettamente quando parliamo di per dire di se calci un pallone da calcio e poi calci un pallone da pallavolo o un pallone da basket oppure anche un super tele qual è la differenza la si sente subito già solo a livello di materiale a livello di peso si notano subito le differenze esatto non c'è subito la differenza ma questo c'è equivale per è un concetto di tipo trasversale pure il c'è anche una giocatrice o giocatori di pallavolo mi parla un giocatore di pallavolo si paventa per favore giocatore anzi eccola perfetto grande grazie scusami adesso mi dici chi sei sulla perfetto giocatrice di pallavolo quando tiri a canestro magari hai dovuto palleggiare nel canestro che ruolo giocavi sono banda perfetto allora mettiamola diversamente se fai il classico lavoro di attacco al muro di fasciatore del pallone c'è differenza se fasci un pallone da pallavolo molten non so se l'hai mai cambiati molten o mi casa c'è tipo ecco c'è differenza quando ricevi c'è differenza? sì ah no vero? esatto grazie per la testimonianza possiamo andare avanti Andrea Bosco mi sembra ci sei? che gioca basket Andrea ci sei? forse è andato forse non so vabbè comunque avete capito il principio non vi sento va bene comunque il principio l'avete capito il discorso è esattamente quello della della questione che il peso ragazzi cos'è questo rumore di fondo ok va bene ragazzi mi sentite? trial sì professore la sentiamo e sentiamo anche noi il suo suono strano che non capiamo cosa sia vero? esatto non so che cosa sia infatti adesso vediamo se per caso dovesse proseguire voi rimanete qui un attimo io esco e provo a rientrare ok? se invece se ne va via per i fatti suoi evviva ok? comunque avete capito il principio no? il principio è appunto quella della discriminazione cinestetica cioè che varia fondamentalmente in funzione di quelli che sono gli attrezzi che noi portiamo avanti e questo è l'altro principio che ci interessa capire che è il passaggio tra un gesto corticalizzato a un gesto subcorticale perché questo determina la stabilizzazione dei nostri fondamentali ora quando prendiamo la patente immagino che quasi tutti di voi se non tutti il 100% di voi abbiano fatto questa cosa ma in ogni caso lo possiamo verificare in altri frangenti immaginate il neonato che inizia a mangiare quando iniziamo a a cercare di apprendere un nuovo gesto abbiamo una gestione che è totalmente corticale cioè il cervello deve pensare attimo per attimo a quello che stiamo facendo quindi stacco la frizione non è che all'inizio sono subito super coordinato accelero stacco la frizione la macchina non si spegne e vado in avanti devi essere super focalizzato a cercare quel punto lì che sia quello giusto e non troppo prima e non troppo dopo perché se è troppo presto la macchina non si muove se è troppo tardi la macchina si spegne piano piano questo è il tipo di gesto viene fa un passaggio da essere iper corticalizzato quindi super concentrato nella gestione di quel punto lì fino ad arrivare a una sensibilizzazione che ci permette di fare quello che è nella nostra quotidianità ed è assolutamente ripercorribile al al discorso del camminare di qualsiasi schema motorio che poi diventa stabilizzato ora l'apprendimento e il passaggio di questa skills che sicuramente in qualsiasi vostro frangente avete provato è dato dal fatto di una ripetizione di un passaggio del flusso di stimolo costante su un'unica via cosa intendo immaginate prendete questo esempio per capirlo meglio immaginate un campo di grano con delle spighe di grano ci iniziate a camminare in mezzo cosa succede che se ti guardi dietro le spighe di grano sono leggermente appiattite però una volta che sono passato le spighe ritornano di nuovo verso l'alto se ci ripasso un'altra volta le spighe vanno sempre più in basso se ci ripasso decine di migliaia di volte le spighe restano giù oppure resta proprio un sentiero il passaggio di stimolo tra quello che è appunto la stimolazione che potete scegliere voi che lasciate stare che adesso stiamo vedendo una bambina che colpisce il pallone sull'avambraccio ma sceglietelo nel vostro ambito questo serie di ripetizione 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 fa sì che si costruisca questa via sinaptica ok questo sentiero sinaptico che significa che offre meno resistenza nella gestione della della componente diciamo del fondamentale o comunque dell'azione motoria richiesta ok quindi più io riesco a tracciare questa via in maniera puntuale precisa robusta stabilizzata più il mio cervello sarà in grado di riproporla dissipandomi l'energia nell'organizzarla ok non tutto viene poi corticalizzato perché se fosse tutto gestito a livello del cervello le movimentazioni sarebbero estremamente complesse ci sarebbe un sovraccarico di informazioni quindi la gestione sarebbe molto peggiore sapete qual è il la massima espressione patologica della corticalizzazione è una malattia vediamo un po' se qualcuno abbiamo dei pugili o era nel corso prima no forse è il corso prima che avevamo i pugili non mi ricordo qualcuno lo sa? sapete sembra che è pugilato ah ok mi parli pugile? ci sei? sì che malattia ha io che malattia ha il pugile più grande quello che è stato descritto come pugile più grande di tutti i tempi è il Parkinson esatto esatto il Parkinson è esattamente che parliamo ovviamente di Cassius Clay e Muhammad Ali il Parkinson è la gestione totalmente corticalizzata di tutti i gesti per quello che risulta se non sapete di cosa stiamo parlando andate a vedervi dei video di Muhammad Ali adesso purtroppo come si muove in maniera estremamente compassata e lenta quello è un sovraccarico del sistema corticale quindi immaginate quanto sarebbe problematico muoversi in maniera fluida decisa e come dire organizzata se tutto quanto dovesse passare dal cervello detto questo grazie per la testimonianza detto questo se ovviamente ritorniamo di qua abbiamo parlato di come reagiscono le strutture abbiamo parlato di di forze diverse da applicare stiamo parlando appunto di sensibilizzazione per impostare poi quello che è un gesto dove la frequenza non è il fattore critico ma devo ragionare su quello che sono le sensazioni per poterlo iniziare ad apprendere in maniera corretta e dove il feedback dell'allenatore diventa fondamentale per poi passare a una coordinazione di tipo grezzo dove la movimentazione viene accentuata in maniera più rapida e più frequente in termini di tempo fino ad arrivare poi a avere la capacità di coordinazione fine ed avere delle esercitazioni sempre più difficili fino poi ad arrivare a gestire lo stimolo sul campo ora per poi andare avanti rapidamente noi dobbiamo avere ben chiaro in testo due tre aspetti uno come funzioniamo come le strutture si organizzano due come faccio a ottimizzare queste strutture stesse stiamo parlando quindi sempre di una condizione in questo momento non abbiamo mai parlato di capacità condizionale abbiamo parlato sempre di capacità coordinative e adesso vi chiedo una cosa rispendete liberamente qualcuno non fatevi problemi che cos'è la coordinazione me ne date una definizione qualcuno che che prova che cos'è la coordinazione datemi una definizione parliamo spesso di coordinazione di 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 capacità coordinative però che cos'è la coordinazione il collegamento tra cervello e movimenti è interessante come come visione però possiamo fare meglio se volete anche tramite microfono ragazzi non fate problemi tanto siete dietro anche se dite qualcosa resta tra di noi e tanto siete dietro una armonia tra i movimenti questo è anche una una visione parzialmente corretta altri nessuno che si avventura non sarà valutazione di esame ragazzi imparate a mettervi in gioco ci vuole personalità per fare il mestiere che volete ambire a fare ognuno al proprio livello però ci vuole personalità devi essere in gioco mettersi in gioco fondamentale va bene nessuno ci prova va bene per adesso siete timidi ancora dovremmo sgrezzarci un po' attenzione è arrivato ancora qualcuno capacità di muoversi in base all'ambiente e alle situazioni movimenti in modo efficace allora sono tutte cose giuste più movimenti nell'ambiente assolutamente sono tutte cose giuste però sono tutte visioni leggermente parzializzate controllo del proprio corpo giusto anche questo in realtà quando tu quando noi parliamo di coordinazione e quando fondamentalmente anche i giovani atleti fanno questo tipo di analisi anche inconsapevolmente con saper muovere tutto o solo alcune parti del corpo equilibrio dei movimenti giusto sono cose giuste ragazzi sono cose giuste però lasciatemi passare questa questa idea quando tu ricostruisci un movimento e per renderlo armonizzato in equilibrio tutte cose che avete già scritto voi giustissime facciamo un'operazione lo figuriamo nella nostra testa e lo riproponiamo sul campo più il movimento che metto in opera metto a terra dimostro fisicamente è vicino a quello che è il modello a cui io avevo pensato più possiamo dire che siamo coordinati ok quindi più c'è vicinanza tra quello che è e la mia idea che ipotizzo di mettere in opera e poi metto in opera effettivamente è più sono coordinato facciamo alcuni esempi non c'è nessuno che pensa di tirare a canestro facendo uno step back tirare a canestro e non fare il ciuffo no nella tua testa fai il ciuffo cerchi di fare quello poi però certe volte metto il pallone e non va lì ok più io riesco ad essere aderente a questo tipo di di immagine più sono coordinato più nella mia testa il giovane calciatore azzecca nella sua testa la rovesciata della vita dalla cristiano ronaldo più sei vicino al a essere coordinato più quando fai il salto in stile Fosbury il salto in alto in stile Fosbury nella tua testa l'hai visionato in quella maniera lì e poi sei stato capace di riproporlo facendo passare quello che è nella testa a quello che è il tuo controllo motorio quindi a quello che poi è il centro nervoso che andrà a far muovere i pezzi del corpo per riportarci a quel tipo di movimentazione allora tu sarai più o meno coordinato il giocatore di pallavolo quando riceve o attacca fa la sua azione di attacco quindi coordina perfettamente rispetto alla traiettoria del pallone lo colpisce al volo questa è la coordinazione sviluppare capacità coordinative di alto livello implica basi molto più solide sotto il punto di vista dell'apprendimento si può applicare anche con idee di movimento e gesti tecnici non corretti Matteo cosa vuoi dire apri il microfono dimmi spiegami un po' perché non mi chiara tanto la cosa ok nel senso lei ha detto che in questo caso è quando più si avvicina l'idea che ci facciamo noi in testa del movimento del gesto con la realizzazione stessa ma se concettualmente noi quel movimento lì che abbiamo in mente è appunto sbagliato non corretto e comunque ci avviciniamo e sbagliamo come lo avevamo immaginato si parla comunque di coordinazione allo stesso modo e allora questo è uno dei gravi rischi no? cioè è molto più difficile togliere un movimento sbagliato e inserirne uno giusto che inserirne uno giusto direttamente siamo d'accordo? sì mi stai dicendo se io sto costruendo un modello e il mio giovane atleta prende un esempio sbagliato cioè prende un modello sbagliato ed è super coordinato però su un modello sbagliato tu ti ritrovi a scavalcare il muro sbagliato cioè appoggi la scala sei bravissimo ad arrampicarti sopra la tua scala arrivi in punta alla vetta di quello che è il tuo obiettivo cioè quello di allineare quello che è in testa rispetto a quello che l'ha messo in opera però ti sei messo sul muro sbagliato ci stai dando la vita al problema sbagliato questo ci deve rendere molto consapevoli del fatto che dobbiamo essere bravi a inserire i modelli giusti perché poi è un casino però non si parla più di coordinazione in questo caso oppure sì lo sesso allora poi noi non leggiamo nella testa delle persone no Matteo certo cioè quindi orestamente quello che hai tu in testa è difficile che se tu proponi un modello giusto qualcuno attui un modello sbagliato cioè abbia un altro modello nella testa soprattutto se è giovane se un atleta è voluto è un pochino più complicato perché comunque è uno storico però è logico che se tu proponi il modello tecnico corretto è probabile che il modello tecnico sia quello giusto da conseguire logicamente in realtà sì la tua domanda ci sta ho riposto sì più che altro il mio dubbio era riguardo il fatto che diversi ragazzini comunque si vedono il tuo modello di gesso tecnico di movimento di quello che stiamo parlando però non tutti lo recepiscono in stesso modo nel senso cioè chi vede dettagli in più chi in meno chi lo elabora in maniera diverso ad esempio proprio la cosa più banale ad esempio io che sono calciatore il colpo di piatto c'è chi vede la gamba posizionata in un certo modo chi in un'altra e quindi ovviamente la loro mente si fanno uno schema diverso ognuno e quindi vanno a colpire la palla in modo diverso allora questo è un punto letteralmente diverso allora se tu allora tu allora la proposta visiva che tu gli fai gli fai vedere deve essere integerrima perfetta ok poi è logico che come dici te ognuno si ha non è che non è che il modello è sbagliato il modello è corretto è l'interpretazione che è sbagliata cioè facciamo più fatica il ragazzino a rifare quello che hai fatto tu per esempio no ci siamo qualcuno che riesce più agilmente o meno agilmente a riproporre no ora a quel punto lì siamo su un altro piano siamo su quello della poi della regressione didattica e cercare di correggere una parte del gesto che stai costruendo e andiamo su un altro tipo di discorso che aspetta questo qui lo schermo sì tipologia di esercitazione super analitiche analitiche in questo caso ci si ferma qui poi il sintetico globale lo lasciamo stare perché perché tu dovrai scomporre il gesto e sensibilizzare quello che è la discriminante che non gli viene e fargli sentire non soltanto mostrargli ma fargli sentire quello che è l'utilizzo corretto ok invece altra domanda se invece con quel modello che si è fatto lui in testa sbagliato però tiene lo stesso risultato dipende che fascia dita hai e dipende a che livello sei inteso come se tu sei a livello assoluto ti costa molto per dirti hai presente che non lo so sei presente che è Michael Johnson quando correre tecnica di corsa pessima però campione olimpico sui 200 sui 400 quanto mi costa cambiare quella biomeccanica di corsa in funzione di quel motore lì che si esprime già così a quel livello lì quello siamo tutti d'accordo che è un gesto sbagliato però è efficiente ed efficiente a livello assoluto ok se io invece sono in una prima di apprendimento è probabile che non ho ancora un livello assoluto totalitario per essere un campione olimpico quindi cosa significa che probabilmente se costruisco un modello biomeccanicamente migliore è probabile che a medio termine migliori di più è logico che in quel momento lì diventa più faticoso perché bisogna togliere gli errori e inserire le cose giuste ok perfetto grazie mille questo è riportabile in tantissime in tantissimi altri sport ci sono a pallavolo ci sono dei giocatori che hanno la rincorsa al contrario si dice che però sono fortissimi e non si toccano nel basket ci sono stati dei giocatori con delle biomeccaniche di tiro non eccelse che però erano efficienti e quindi non si si tende a non toccarle se siamo già arrivati a livello di tipo assoluto ragazzi l'idea di base poi andiamo avanti è che noi c'era un mio professore che diceva che noi siamo dei aerei da combattimento che ci muoviamo come gli aerei di Rana Air abbiamo una centralina di livello altissimo e poi decidiamo di fare il Boeing 737 da da passeggio le stimolazioni nervose diventeranno importanti per far sì che la nostra centralina si esprima al massimo del potenziale quindi conoscere come funziona quindi sapere come si traduce da un sistema di tipo corticale a un sistema di tipo subcorticale conoscere vediamo di qua quali sono gli step di un apprendimento corretto il più fruibile possibile conoscere il metodo cioè quando è che performo di più sulla in questioni di metodologia proprio quanto tempo faccio lavorare quante ripetizioni quante serie faccio fare avere questi questi bagagli di tipo tecnico diventa fondamentale perché a questo punto cosa possiamo dire che tranquillamente possiamo far migliorare seguendo una metodologia quindi un metodo ripetibile nel tempo con più soggetti quello che è l'apprendimento di uno schema a motori di un fondamentale fondamentalmente ok quindi sapere come funzioniamo sapere quali sono le sapere quelli che sono le diciamo i passaggi corretti per l'apprendimento sapere come intervenire su quei passaggi quindi esercizi analisi di tipo analitico superanalitico e sapere qual è il metodo di applicazione 30 secondi di lavoro 30 secondi di recupero fino a quando o mando avanti la mia capacità cioè la mia performance cresce oppure decresce perché il mio cervello è sovraccaricato e non ce la fa più a rielaborare i dati in maniera corretta se io conosco tutto questo pacchetto è indipendente se ti devo insegnare a fare il bugger o insegnare a fare il colpo di piatto quello poi è un'abilità sport specifica che dobbiamo essere in grado di applicare per quanto riguarda i ripassi della prima lezione vi direi che siamo arrivati così vi è chiaro questo concetto avete delle domande se avete delle domande fatemele mi dati dei segni di vita? c'è vita su questo pianeta? a parte Matteo con cui ho interagito grazie Matteo spero che anche le domande che fanno i vostri compagni possano essere d'aiuto ad altri grande tutto chiaro tutto chiaro riportatela sempre il vostro esercizio è riportare quello che vi insegna Capuzzo non sulla pallavolo ma nel vostro ambiente di riferimento importantissimo voi dovete essere tecnici migliori non dovete non dovete diventare per forza allenatori di pallavolo ok? riportate sempre cercate di fate questo esercizio fate questo sforzo riportate la componente su quello che è il vostro campo di applicazione va bene? fatelo sempre cercate di pensare come potrei applicare questa cosa nel pratico certo che tutto può essere applicato a tutto poi ovviamente ci sono prestazioni in cui è più facile quindi bisogna è più immediato perché la vicinanza è maggiore e poi ci sono invece delle prestazioni che sono più difficili però è assolutamente sempre delle sfaccettature sono sempre traslabili ecco questo è il punto di vista appunto iniziamo a guardare beh rapidamente questa è la seconda lezione per quanto riguarda il discorso della della pretensione del tendine d'Achille quando noi abbiamo una una necessità di di spostamento reattivo sicuramente il peso sull'avampiede permette un pretensionamento del tendine d'Achille dell'Achilleo che aiuterà una risposta di tipo più reattivo quindi tipo molla ok di fatto ci permette di rimbalzare in maniera più agile più rapida più reattiva e nello sport ovviamente soprattutto negli sport open skills quelli in cui ma poi in realtà anche in altri cioè perché comunque la capacità di rimbalzare chi fa atletica leggera ma anche chi fa ginnastica artistica sulla capacità dei salti è fondamentale perché sennò logicamente il corpo performa a un grado più basso vi siete mai chiesti perché il piede è cavo e non piatto questa cosa cioè il corpo non è mai montato lasciatemi passare il termine a caso ogni pezzo è assolutamente centrale perché se il piede non fosse cavo non potremmo creare tensione su quello che è il tendine d'achillo cioè ricordatevi sempre che la fascia plantare è fortemente carica di tessuto cartilaginio oltre ovviamente poi a tessuto tendineo che passa a livello dell'inserimento del calcagno però questo perché questa rigidità permette di nel momento in cui faccio pressione verso il basso con il mio calcagno abbassandolo scusatemi verso il basso creo una sorta di arco che porta in tensione il tendineo di achille che di fatto carica energia potenziale ce la restituisce in termini di energia elastica quindi ci fa rimbalzare è proprio un rimbalzo ora avere coscienza di come vi dicevo come funzioniamo come siamo fatti diventa fondamentale anche per poi studiare quelle che sono le posizioni dei nostri atleti quindi nel caso del bagger abbiamo detto posizione sull'avampiede perché perché sono più reattivo ma se costruiamo vediamo un po' se alcune esercitazioni se proprio vogliamo vedete in questo caso poi le bimbe sono un po' più sono meno brave ma vedete come perché sono molto più focalizzate a cercare il piano di rimbalzo del pallone stesso e vedete che in questo caso qui il tallone è appoggiato a terra sarebbe un errore di tipo tecnico dovrebbe stare sull'avampiede no? perché? perché nel momento in cui creo tensione sul tendine d'Achille sono più capaci di spostarmi e questo è il tema cioè nelle situazioni open skills dobbiamo essere bravi a spostarci però prima è importante costruire didatticamente delle sicurezze su quelle che sono le zone di comfort quindi nel nostro caso il bugger la prima cosa che devo fare è il bugger al corpo perché? perché già devo essere bravina a colpire la palla quando la palla mi arriva perfettamente davanti questa cosa può essere anche riportata nel calcio come ci faceva l'esempio Matteo per dirti sul colpo di piatto prima la palla arriva nei piedi del bambino poi lo farò facendo uno scambio correndo che ne so immaginate quello che è il vostro sport di riferimento prima statico lento controllato zona di comfort poi diventa fondamentale in particolare sugli sport open skills avere la capacità di gestione degli spazi però in una seconda istanza prima preciso su quella che è la stabilizzazione sulla gestione del fondamentale via subcorticale e sono bravo a gestirmela lì poi si incomincia nelle varie componenti che possono essere di diverso genere prendo sempre l'esempio da palavolo perché noi siamo qui nel modulo esempio di potenziamento muscolare per delle dimbe ma anche coordinativo perché intanto ascoltano il peso del pallone è vero che non lo stanno colpendo ma intanto lo tieni in mano e intanto però hanno il peso sull'avampiede creano caricamento sul peso dell'avampiede per dire un esempio oppure gestione poi dello spazio quindi qui siamo già su una fase un pochino più evoluta e il fondamentale viene portato in giro ma poi vedete cosa succede succede che in certi frangenti perdiamo la visione periferica no? è una sorta di allenamento anche questa quindi non soltanto una capacità messa in opera oh scusatemi ok scusatemi telefonata entrante nonostante ci sia una una gestione appunto del fondamentale concorrono all'esecuzione di questo esercizio anche altre capacità che possono essere appunto la gestione spaziale e la visione periferica quindi partiamo come al solito struttura sensibilizzazione didattica metodo fatto questo si parla su posizione più facile di comfort palla addosso fino a situazioni più complicate per quanto riguarda il discorso della 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 gestione del fondamentale stesso anche nello spazio con altre componenti per poi fare cosa aumentare per esempio la velocità per dirvi adesso fate il bugger spostandovi a destra e a sinistra però vi spostate più rapidamente banalmente già questo è un incremento di richiesta di skills fino poi ad arrivare a quella che è la componente globale che porterà nel sistema di gioco ok domande dubbi perplessità riguardo di questo frangente della seconda lezione che poi passiamo a parlare dell'ultimo tema di giornata nessuno questa era abbastanza più più facile no anche più intuitiva forse niente di di che allora vi mostro quello che non a caso sono dei test che ho condotto su atleti anche di altri sport in questo caso quello che vi mostro in primis è un calciatore il calciatore ha l'obiettivo di fare un cambio di direzione e scusatemi non un cambio di direzione un cambio diverso e di fatto percorrere una tratta in maniera più rapida possibile andate e ritorno parte lo sprint lo sprint è su 15 metri in questo caso cambia il peso e ritorna indietro per adesso guardatelo così come poi facciamo un po' di analisi di quello che dovrebbe fare un qualsiasi sportivo durante la stessa una fase di gioco o di spostamento altro calciatore non lo riconoscete perché hanno le maschere perché stavamo facendo dei test sul V2 Max però sono due soggetti diversi punta il piede ritorna indietro cambio di peso e se ne torna sulla tratta di andatura guardate qui è evidente quanto uno dei due scelga gestisca meglio l'allineamento per quanto riguarda il treno superiore per quanto riguarda anche la precisione il compito era oltrepassa la linea bianca e te ne torni indietro questo perché avviene ritorno di qua che così mi vedete questo perché avviene avviene perché nel puntare con gli occhi la distanza dove io devo fare il cambio diverso la mia analisi è sbagliata sono entrato troppo forte in maniera troppo veloce per poi fare il mio ritorno indietro e mi ritrovo che la forza espressa mi faccia andare oltre la linea della base d'appoggio dei piedi con le spalle e non sono più in grado di tornare indietro perché questo però nasce dal fatto che io ho discriminato malamente quello che è il mio punto di arresto ok il punto di arresto dove dire il punto è arrivo fino là e questa cosa è una cosa che è coordinativa cioè i ragazzi devono essere allenati a spostarsi nello spazio perché perché facciamo delle attività open skills perché perché più sono bravo e veloce a capire dove mi devo posizionare più probabilmente avrò la fortuna di di essere nel posto giusto nel momento giusto ma è un'abilità è un'abilità che va allenata e va riscontrata vedete in questo caso come due atleti e parlo comunque di atleti non voglio dire di altissimo livello perché non è così sono però atleti di categorie nazionali che gestiscono non in maniera perfetta una cosa che è teoricamente più facile che quella di soltanto gestire il cambio di direzione perché se ci metto in mezzo il pallone è ancora peggio è più difficile vi mostro un altro un'altra parte di video beh questo è un caso ancora più particolare passiamo di qua che mi ha detto che si vede un po' meglio questo è un caso un po' più particolare perché oddio becca lo rimetto ok perché è di un giocatore di beach volley quindi stesso principio sprint guardate però nonostante la superficie che ovviamente sia meno stabile cosa succede? il corpo è perfettamente posizionato ricarica e se ne va questo perché? perché nella tratta di andata gestisce al meglio lo spazio tra l'accelerazione in questo caso e l'inizio della frenata vedete qui il busto si estende per cambiare poi piano piano il suo peso all'indietro per poi frenare e ripartire questo è una componente assolutamente di tipo coordinativo leggere uno spostamento ok vi mostro ancora questo ultimo video dove qui abbiamo un tennista questo ragazzo qui era adesso non mi ricordo più tra il 200 e il 250 del mondo comunque quindi un atleta abbastanza performante guardate cosa succede qui l'obiettivo era fermarsi tra i due cinesini bianchi guardate cosa succede entra e poi oltrepassa la linea questo perché? perché nella sua componente di gestione dell'accelerazione e del punto di frenata ho calcolato male gli spazi tutte cose assolutamente da di cui essere consapevoli e di cui essere capaci di gestire perché se no poi purtroppo creiamo ottimi fondamentali al corpo che però poi non funzionano e questa cosa vale anche per dire in tutte le condizioni non voglio sconfinare in altri sport però lo spostamento la qualità di spostamento è assolutamente frontale e una componente tecnica di altissima rilevanza se non facessimo così saremmo praticamente sempre immobili con la palla sempre addosso e ovviamente non è attendibile per quello che è l'esigenza di un di un progetto open skills quindi il problema è allenare anche la capacità delle sensazioni come quella di portare il pallone in giro durante le fasi tecniche ma anche del corpo stesso di quanto accelero e in quanto tempo freno per posizionarmi nella fase giusta torniamo di qua e vi mostro quest'ultima componente che è sia un punto di vista dell'evoluzione della lettura di una traiettoria sia quello che il il compito di chi fa la proposta e ci fa ragionare su un altro tipo di frangente allora chi mette la proposta da sotto rete verso fondo campo lancia in questa istanza un pallone al corpo vedete che più o meno più o meno la palla arriva all'interno del target ma poi incomincia una nuova fase di lavoro più allenante in realtà dove i lanci sono richiesti fuori dalla linea del corpo la partenza è più vicino alla rete e la compagna che fa la proposta lancia il pallone nello spazio chi deve andare a eseguire il compito quindi organizzare il fondamentale dovrà non solo organizzare la sua qualità di spostamento ma dovrà leggere la traiettoria del pallone che viene proposto e far sì che il fondamentale descriva faccia descrivere alla palla una parabola che permetta alla compagna che entra invece dall'altra parte del fondo campo di palleggiare verso rete non sottovalutare il problema di lanciare senza avere l'obiettivo perché perché lanciare in una zona aperta è più difficile rispetto ad avere un target stesso perché se non abbiamo il riferimento dovremmo essere in grado di mettere la forza giusta ma senza avere un riferimento diciamo un obiettivo target da poter misurare e come dire utilizzare come riferimento ok quindi in questo tipo di esercitazione abbiamo già due valenze una valenza sia sotto il profilo di chi esegue sia di chi mette la proposta gli occhi funzionano esattamente come un puntatore laser prendono un target lo guardano guardano un punto nello spazio preparano di fatto un puntino che si ripropone sopra la nostra retina e il corpo cerca di allinearlo cerca di calcolare quelle che sono le profondità le le distanze sia che io sia fermo sia che io sia in movimento questa capacità per esempio nel momento in cui vi mettono in stazione monopodalica a fare stretching del quadricipito classicone vi dicono guarda un punto sempre fermo è assolutamente vero che il corpo reagisce meglio a quel tipo di stimolo perché la distanza dell'occhio continua a cercare di ottimizzare lo spazio tra la proiezione del mirino che ha descritto sulla sua retina rispetto alla posizione a terra da quella cosa farà manderà degli stimoli al sistema nervoso centrale che farà organizzare le contrazioni in maniera da poter aggiustare creare gli aggiustamenti e riallineare questi due questi due punti quello effettivo sul campo e quello che è il nostro mirino stessa cosa vale su sia lanciare un pallone nello spazio però senza avere quel riferimento quindi tu quel riferimento lì lo devi immaginare ed è tecnicamente una richiesta di livello più difficile e alla stessa maniera invece chi va a eseguire il fondamentale chi nel video andava a eseguire il fondamentale doveva leggere la traiettoria del pallone organizzare lo spostamento quindi calcolare la velocità di ingresso calcolare la posizione del resto e organizzare il fondamentale ora questo per dirvi non sottovalutiamo mai le componenti che vengono chiamate in causa durante un'esercitazione le dobbiamo essere in grado di analizzare scorporare semplificare e poi riproporre nuovamente all'interno del sistema stesso più complesso ok quindi ritorniamo un po' anche all'esempio del colpo di piatto precedentemente se il bambino non riesce a farlo dovrò essere in grado di applicare una esercitazione analitica per correggere ok poi eventualmente nel dettaglio possiamo anche entrare su quelle che possono essere le le esercitazioni da mettere in opera ma non è questo l'obiettivo del corso l'obiettivo del corso deve essere quello di apprendere nozioni e capire che sono problematiche esistenti che poi sul campo si vengono a verificare e poi logicamente costruire quelle che sono le strategie per cercare di migliorarle però entreremo su un discorso sport specifico che onestamente non è non credo sia centrale o perlomeno se poi diventa centrale posso rispondere anche in separata sede fondamentalmente ok direi che ho parlato abbastanza da solo e voglio sentire qualcosa da voi domande dubbi perplessità le avete già ragionate queste cose le avevate già già anche magari preso diciamo coscienza nel vostro percorso fino a qui sono cose totalmente nuove datemi un po' di feedback dormite tutti mi avete lasciato da solo capito penso stiamo scrivendo professore comunque almeno per quanto mi riguarda sono cose che comunque ho già visto quindi non sono cose totalmente nuove e mi sto ritrovando in diverse cose bene bene questo è il primo è il primo punto cioè questo è un buon ripasso fondamentalmente poi in realtà erano cose da provare però però bisogna sperare per marzo poiché almeno finisce il primo semestre poi magari nel secondo che sono passati ancora 3-4 mesi da sta cosa magari un minimo in presenza si potrà tornare speriamo aspetta ho lasciato la sfera di cristallo negli altri pantaloni poi la guardiamo più tardi non ho idea speriamo incrociamo le dite guarda più che altro cioè come ho detto anche all'altra professoressa di basket cioè con la pratica è molto più semplice poi assimilare la teoria che a me sono concetti per esempio per me tutti nuovi perché ho una metà sforza assolutamente diverso quindi con la pratica sicuramente l'avrei preferito perché impari proprio bene certi concetti appunto mettendoli sul pratico scusami ti occupi di col dance non c'entra niente beh sì hai un sacco di anche perché tra l'altro tu sei proprio su una su una capacità estremamente però comunque hai delle componenti coordinative perché devi sentire il corpo nel tuo spazio anche per quanto riguarda la proposizione quella è importante sì 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 certo però è ovvio che hai meno come dire attitudine verso quello che può anche essere la semplice difficoltà che realizzi tu su te stessa nel lanciare un pallone e poi magari tu dai per scontato che una ragazzina un bambino che poi magari domani dopo domani andrà ad allenare qualcos'altro non lo so diano per facili perché per te è facile ma in realtà non è così immediato non è così immediato e poter calcolare questo tipo di di percorso logicamente rimarrebbe molto più ancorato se lo provi questo è ovvio però facciamo di necessità virtù ragazzi cerchiamo di da tecnici da allenatori da tutto ricordatevi sempre perché abbiamo un'unica reale condizione che ci si riproporrà tutti i giorni gestire variabili e a volte le variabili sono molto brutte come in questo caso che ci relegano in uno spazio non adeguato a poter praticare Cecilia secondo lei questi ultimi esercizi sono applicabili come la mia dove a terra si fanno pochi esercizi direttamente al suolo sono in preparazione fisica Cecilia mi apri un attimo il microfono e mi parli così almeno mi spieghi un attimo eccomi ecco ti grande mi spieghi un attimo la domanda perché penso di averla capita però preferisco che me la ma allora io il mio dubbio è che guardando tutti questi esercizi che lei ci ha mostrato e dicendo appunto cercate sempre di pensarli applicati alla vostra disciplina faccio un po' fatica mettiamola così essendo io sempre molto in aria più che a terra certo e però mi facevo un esempio di si fanno pochi esercizi direttamente al suolo se non in preparazione fisica sì però proprio noi usiamo poco la corsa se non magari per il riscaldamento iniziale quanto poi in realtà andiamo a fare esercizi molto non per forza statici ma non dinamici mettiamola così non di movimento puro no capito allora guarda io ti ti dico una una cosa poi logicamente siamo estremamente come dirti cioè secondo me voi avete cioè come come attività una richiesta coordinativa estremamente superiore perché la gestione aerea è assolutamente più complessa perché quando io perdo riferimento e come allora lasciami passare il concetto se se io tiro la palla nello spazio non ho già riferimenti perché non ho l'obiettivo finale però comunque delle distanze una linea a fondo campo dove poter ipotizzare di lanciare il pallone ce l'ho voi quando siete in condizione aerea avete i riferimenti del vostro corpo e basta ed è ancora più difficile gestirlo ora tu mi parli di lavori a terra e quando lavoriamo sul potenziamento immagino che tu mi parli di preparazione fisica immagino che sia di potenziamento a terra sì sì di certo quello che mi viene in mente è sempre sulla la situazione specifica inteso come banalizziamo per cercare di dare dei concetti che possono essere vicini a tutti quanti ipotizziamo semplicemente delle del core stability che sicuramente fate immagino che anche in fase di riscaldamento queste cose qui avrete delle componenti di core molto importante però il punto è sono forte di core e viva però poi c'è la prestazione sport specifica quindi io posso essere bravissimo a tenere ore plank position per ore però poi non è detto che durante l'esecuzione del gesto sport specifico immagino cosa fai volteggio fai corpo libero cosa fai no io faccio trapezio quindi statico in realtà però poi sì magari anche robe dinamiche eccetera eccetera comunque in ogni caso la velocità di contrazione che il tuo centro o il centro delle ragazzine o dei ragazzini che alleni dovrà essere capacità di applicare quella forza nell'unità di tempo che sia collimante a quella che è la richiesta dell'esercizio stesso quindi non basta soltanto essere iper strong devo anche cercare di essere bravo agli angoli che mi sono richiesti ed essere bravo anche nel ritmo che mi sono richiesti questo è il primo punto quando sei su delle fasi così difficili da riproporre su delle basi coordinative così difficili da riproporre perché poi questo è un'evidenza tu finché vuoi puoi far fare capovolte a terra però non è la stessa velocità d'ingresso la stessa rapidità che puoi fare per aria adesso sto ipotizzando non è che bisognerebbe andare a guardare nei dettagli no però sì capisco capisco un po' l'obiettivo qual è? è quello di sempre comunque costruire nei giovani una piattaforma inteso come capacità di apprendimento alta e recettiva cosa intendo? se tu non non potrai mai fondamentalmente riproporre a terra quello che proponi per aria però immaginiamo facciamo l'esempio che ho fatto anche ai tuoi altri colleghi se devo abbattere un albero posso iniziare immediatamente ad accettare e cercare di buttarlo giù nella maniera più rapida possibile però posso anche affilare l'accetta e andare poi in un secondo momento ad abbattere l'albero stesso magari affilare l'accetta che mi fa investire del tempo è un tempo che però riesco a recuperare perché la mia accetta è più tagliente durante la fase di abbattimento quindi il tempo complessivo dell'abbattimento dell'albero si riduce nella stessa maniera costruire skills di propriocezione di coordinazione anche totalmente distanti da quello che poi sarà la parte sport specifica può darti un riscontro in termini di come dire capacità della piattaforma di incamerare e gestire al meglio i tuoi stimoli specifici perché il cervello funziona così se non ha niente a cui appigliarsi cerca alla cosa più vicina che ha coordinativamente parlando di forza parlando quindi condizionalmente parlando cerca di trovare dei riferimenti al suo interno quindi costruire delle esercitazioni coordinative anche distanti anche distanti da da quello che poi è l'obiettivo finale se non posso avvicinarmici perché non posso farlo cosa devo fare cioè già il tuo gesto stesso è un'applicazione di tipo coordinativo no quindi creare delle skills di coordinazione che possano essere indipendenza motoria tra arti superiori arti inferiori indipendenza motoria quindi cercando di isolare per esempio gli occhi facendo fare cose occhi chiusi per far sentire il proprio corpo senza averne riferimenti senza controllarmi allora può essere già una cosa che poi a medio termine può pagarti in termini di apprendimento poi del gesto specifico ok sì 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 ma infatti l'ultima cosa che ha detto sulla questione degli occhi chiusi è una metodologia che utilizziamo molto perché appunto aiuta proprio a rendere il corpo un po' indipendente non so come dire no assolutamente cercando di mantenere una un'idea di 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 ascoltarsi non di guardarsi perché purtroppo la difficoltà di un esercizio acrobatico è nel ascoltarsi nel sentirsi perché mentre sei lì sei nello spazio non è hai soltanto la possibilità di cercare di essere più allineato più coordinato quindi avere in testa bene l'immagine che tu vuoi riproporre nello spazio sapere come farla quindi gli esercizi di forza di base che mi dicevi prima e poi essere in grado di rielaborare in maniera più aderente possibile più sei bravo a fare questa cosa qui più sarai performante questo è l'idea di base altri esempi dimmi no volevo solo dire grazie mille perché ora è tutto molto più chiaro grazie e comunque sì tutta questa questione dell'ascoltare il proprio corpo è assolutamente una metodologia che noi nell'acrobatica aerea a terra prima di salire sugli attrezzi utilizziamo molto perché poi è molto importante sapere che il proprio corpo può arrangiarsi in in qualsiasi momento o difficoltà insomma no noi sottovalutiamo molto le potenzialità del nostro sistema nervoso centrale questo sensato quindi se lo stimoliamo puoi avere dei buoni riscontri e poi in realtà il riscontro è sempre un riscontro di tipo relativo nel senso se qualcuno con grande rispetto purtroppo poi ci sono anche le antropometrie se sei alto due metri difficilmente diventerai un ginnasta di alto livello però sicuramente in senso relativo lavorando in maniera corretta puoi migliorare così come se sei alto un metro e sessanta difficilmente farai giocatore di basket di alto livello capito ognuno ha poi le sue problematiche ma di certo lavorare con metodo in maniera giustificata da quello che è l'apprendimento del corpo l'apprendimento della struttura può essere assolutamente centrale per esempio adesso mi vengono in mente anche l'esclusione dei sensi in alcuni tipi di esercitazioni ad esempio nella pallavolo nel basket nel calcio per aumentare la visione periferica alcuni allenano con i tappi nelle orecchie per evitare lo stimolo della chiamata auditiva cioè sei costretto a guardare è un certo tipo di stimolazione è un certo tipo di apprendimento come posso farlo in maniera è perfettamente aderente alla situazione di gara no però va a stimolare in maniera importante un altro tipo di skills di apprendimento che possa essere poi ripeto che ci si possa ritrovare per questa idea che il cervello ragiona per accomunanze se non trova lo stimolo specifico va verso la cosa più vicina altre cose a qui c'è anche un'altra testimonianza dell'utilizzo di queste metodiche ci sono altre domande ragazzi anche su altre cose non è che obbligatoriamente riguardante questa parte qua no per me tutto che benissimo allora se non ci sono altre domande vi invito a confrontarvi su quella che è la metodica che preferite quello che ci siamo detti all'inizio di questa call con il vostro capocorso se poi magari vi vengono in mente altre cose cercate anche di magari rielaborando il materiale magari vi possono venire in mente altri aspetti scrivetemi una mail senza problemi o a me o a Daniela cerchiamo di rispondere ai vostri quesiti che magari vengono fuori quando uno digerisce un po' il materiale e la lezione se invece non c'è altro io vi congederei vi ringrazio e ci teniamo aggiornati su quelle che sono le evoluzioni per quanto riguarda il proseguo del nostro corso penso che questa lezione qui la metteremo a disposizione verso la fine della settimana per fare un unico video complessivo di tutte le call che sono state fatte che faremo insomma per corsi separati ok professore una domanda sola siccome non ho provato anche con alcuni altri miei compagni adesso non c'è prima siccome ho tra con la lezione così siccome ci sono dei momenti in cui non rispondevamo subito anche con l'audio cos'è del genere per sentirsi un po' più tagliata su agio con questo tipo di lezione potremmo metterci anche in tre quattro cinque non so quanti vuole lei piuttosto con la cam accesa così almeno anche un contatto visivo va bene ragazzi con qualcuno sì no va bene grazie gentile ma insomma questo lo possiamo bypassare cerchiamo di fare poi ovviamente penso anche che dobbiamo anche un po' conoscerci magari anche voi dovete prendere un po' di confidenza nel poterli sentire liberi di parlare non so bene so benissimamente che le condizioni accademiche sono molto dedicate alle forme io personalmente sono molto più indirizzato verso i contenuti cioè non mi interessa se volete darmi del tu datemi del tu non me ne frega niente onostamente il punto è cerchiamo di di creare dei futuri dottori in scienze motorie con con un certo tipo di di background con un certo tipo di apprendimento con un certo tipo di qualità quindi questo è quello che mi prende poi se se vogliamo senza problemi ma sicuramente mi interessa sapere quello che va meglio per voi perché sia più più fruibile per voi ecco questo è il punto assolutamente quello tanto adesso mi metto mi preparo un sondaggio e lo faccio girare così almeno poi le mando una mail e faccio sapere tutto quello che viene fuori e vediamo che gira gentilissimo assolutamente questo è l'obiettivo cioè per intendersi l'anno scorso ho preso una il primo contatto per una per una tesi in direct su instagram quindi c'è per capire mi interessa a me di delle forme l'importante è che ci siano i contenuti l'importante è che ci sia una una reale volontà a voler capire crescere e soprattutto essere pronti perché poi ragazzi fuori cioè il mercato è rognoso ve lo garantisco cioè io lo provo tutti i giorni anche oggi lo provo visto che mi hanno chiuso le palestre quindi non è facile quindi prepararsi pronti per poi poter performare e cioè per me è importante prepararvi e per voi è importante per voi salvarvi da soli cioè darvi un po' di disveglia perché logicamente non è non è così facile come può apparire ok? non è così ragazzi no 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 certo certo assolutamente capiamo perfettamente solo onesto ma meglio così che false speranze penso che la leggenda di Babbo Natale ve l'hanno già spiantata un po' di tempo fa quindi insomma non morirete su questa mia notizia ok? assolutamente allora da ringrazio e ci aggiorniamo poi via mail con i risultati di sondaggio assolutamente io ringrazio voi ragazzi vi auguro una buona giornata un buono studio un buon tutto e rimango a disposizione anche con Daniela per eventuali dubbi domande perplessità anche personali va bene? grazie mille buona giornata ciao ragazzi buona giornata ciao a tutti ciao 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 ciao